Lui ha effettivamente aperto ad agosto del 2020 un'attività di tinteggiatura, di opere di ili minime. Però la cosa molto strana è che nel giro di pochissimi mesi, stiamo parlando di neanche un anno, e senza dipendenti ha riuscito, come dire, o meglio ha attestato di aver eseguito lavori per circa 4 milioni di euro. Quindi sfido chiunque con un'organizzazione aziendale così minima a effettuare questi tipi di lavori. Si chiama indice di rischio, l'alert che permette alla Guardia di Finanza di monitorare le situazioni sospette, e in questo caso l'indice era elevatissimo. Lo scenario è quello del bonus facciate con truffa annessa, crediti fiscali monetizzati per lavori mai eseguiti, scovato un altro imprenditore che usufruiva della rete del settantenne, commercialista di Ponte di Piave, sotto inchiesta nell'indagine che finora ha permesso di individuare 20 persone coinvolte nella frode su bonus facciate ed ecobonus, e permesso di sequestrare 85 milioni di euro. L'ultimo caso è quello di un 68enne sedicente imprenditore edile padovano, al quale i finanziari hanno sottratto 8 milioni di euro di crediti d'imposta e circa 500 mila euro fra somme di denaro, immobili, macchine, moto e quote societari. Anche lui ha falsamente dichiarato di aver eseguito dei lavori su delle facciate, cosa ovviamente mai fatta, ha persino dichiarato di avere la disponibilità di un immobile, quindi come committente, come privato, cosa assolutamente falsa perché lui non aveva la disponibilità di quell'immobile e quindi ha generato tutta una serie di crediti o si è fatto dare da altre persone che avevano a loro volta fatto risultare la sussistenza di questi crediti, quindi si è fatto dare questi crediti, li ha fatti circolare nel sistema economico e in parte li ha anche monetizzati presso gli intermediari finanziari. Nel complesso quindi, finora, sono stati assicurati al patrimonio pubblico oltre 93 milioni di euro tra crediti fiscali, disponibilità finanziarie, case, macchine, azioni societarie e altri beni illecitamente acquisiti. I reati per cui si procede riguardano l'ipotesi di truffa e indebite percezione ai danni dello Stato, ma anche riciclaggio e reimpiego in attività economiche dei proventi illeciti. Questa condotta è stata particolarmente grave perché sia ha recato un danno importante al fisco e all'erario in generale, sia consentito a lui, a questa persona e anche agli altri indagati, di avere dei vantaggi competitivi rispetto agli imprenditori onesti che seguono le regole.